Mario Draghi è stato direttore generale del Tesoro. Ci ricordiamo le privatizzazioni, il regalo che fece ai suoi amichetti di Goldman Sachs di pezzi dello Stato regalati sul panfilo Britannia della regina Elisabeth. In quel periodo il Tesoro doveva ricoprirsi con questi strumenti derivati. I derivati sono il denaro dal nulla, solo quelli over the counter, fuori dai mercati regolamentati sono qualcosa come 700 mila miliardi di dollari. Solo per dare un paragone, il PIL che misura la fatica degli uomini, il prodotto interno lordo del mondo arriva a 60-65 mila miliardi di dollari e la Cina sta sopravvanzando gli Stati Uniti d'America. Quindi su questa vicenda dei derivati il Tesoro si è indebitato con questi strumenti. Ricordo che Mario Monti rimborsò alcune banche dove lavoravano sempre i loro rampolli, i figli, e però non si sa bene quale sia la quantità di derivati in pancia al Tesoro pubblico all'Italia e quanto le scadenze, quando ci saranno i rimborsi. Io feci un'interrogazione parlamentare nella scorsa legislatura, mi vennero a rispondere e c'erano anche le tabelle. Quante banche straniere d'affari hanno questi titoli che sono qualcosa come oltre 200 miliardi di euro, superano i 200 miliardi di euro. C'è un giornalista, Filippo Barone, uno con la schiena dritta, il 5 maggio, è andato a Bruxelles, è andato a intervistare Draghi, che è andato su tutte le furie, gli ha detto sta nel Parlamento, tutti i dati sui derivati stanno nel Parlamento, Camera e Senato. Ebbene, ho accompagnato Filippo Barone alla Commissione Finanze perché io feci quell'interrogazione con risposta in commissione, stavo nella sesta Commissione Finanze del Senato. Quella tabella non c'è più, è sparita. Un bravissimo deputato, Sebastiano Barbanti, lo ha accompagnato alla Commissione Finanze della Camera per vedere se tante volte quei derivati, quell'elenco di prodotti derivati, stessa era la Camera. Non ha trovato nulla. Draghi è andato su tutte le furie, addirittura ha telefonato a questo giornalista. Non ci fa una bella figura. Draghi è quel signore che ha fatto finta di non sapere il crack del Monte dei Paschi di Siena, che andava a braccetto con Mussari, il presidente dell'ABI. Oggi sta la BCE, è un figlio di Troica, ossia BCE, Mario Draghi, Europa, Barroso, Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Io ritengo che bisognerebbe istituire un tribunale internazionale analogo a quello che giudica i crimini di guerra per mettere sotto processo i banchieri che hanno prodotto la crisi per la loro avidità. Mi auguro che si sappia finalmente, che ci sia la chiarezza, anche grazie al Movimento 5 Stelle che farà un'ulteriore interrogazione subito alla Camera su quanti derivati tossici noi abbiamo. I banchieri, quelli che hanno appioppato i derivati, uno si chiama Alessandro Profumo, è stato rinviato a giudizio per il fallimento della Divagna di Bari, un'impresa che dava lavoro a 300-400 dipendenti ed è stata fatta fallire. Profumo è anche quel signore che si è preso una liquidazione di oltre 40 milioni di euro. Ma c'è una perizia, noi denunciamo alla Procura di Roma, una perizia, non erano dovuti quei soldi. Questa avidità dei banchieri deve essere sconfitta. non possono continuare a decidere sui destini del mondo. Siamo noi il popolo, la sovranità, ce la dobbiamo riconquistare, ce la riconquisteremo.